eccoci qua, allora, questo è un video per augurare buon natale e felice anno nuovo a tutti voi a tutti quelli che mi seguono, a tutti quelli che mi lasciano commenti sia carini che non carini quelli che mi danno consigli, quelli che mi chiedono delle informazioni, tutti quanti anche quelli che non sanno neanche della mia esistenza, perché è natale per tutti alla fine, no? quindi, ci tenevo a farvi fare gli auguri da due persone speciali, adesso li faccio venire eccoli, hanno un po' paura e quindi hanno la faccia dentro il guscio tra un po' dovrebbero uscire fuori, sperando che non li avvicino perché sennò gli colla l'acqua nello schermo, dai uscite fuori, dai, vabbè, vi presento sfigata e vi presento fulmine ve li faccio vedere così dal guscio perché si capiscono niente, non si... sono timide, sono timide però anche loro vi augurano un felice natale, un anno nuovo in questo video poi vi farò vedere anche delle foto simpatiche che ho scattato insieme al mio cagnone il mio Hachi e niente buon Natale, felice, un nuovo, un bacio ciao buon Natale, felice, un nuovo, un bacio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti